Siedi con noi, siamo amore puro Siedi con noi, siamo amore puro Siedi con noi, siamo amore puro Siedi con noi Buonasera amici di 9MQ e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le nostre interviste e allora oggi è il 30 novembre, sono le 19.05 e devo dire che siamo puntualissimi cioè per noi è qualcosa di straordinariamente improbabile che succeda allora salutiamo chi ci ha permesso questo miracolo ovvero Achille Zainz, nonché Siedi con noi e Mercante Errante Ciao ragazzi Ciao Allora intanto vi chiedo come state prima domanda è come state magari cominciamo vai Achille, tu come stai? Beh in questo momento ho appena fatto l'incenso del mercante all'eucalipto, al mentolo non vedo più niente no io sto abbastanza bene dai ho la visita ho la visita no chiedervi, cavolo domani domani c'ho domani c'ho domani c'ho l'esame del sangue vedi che se non guardavo te non me ne ricordavo neanche e venerdì c'ho la visita quindi vediamo poi come stiamo speriamo bene dai speriamo al stabile grazie certo devi stare bene abbiamo bisogno di te quindi devi stare bene Mercante, Mercante Errante allora noi ci siamo conosciuti praticamente adesso diciamoci la verità ti chiedo intanto come stai e anche il perché di questo nome allora ciao io sono Mercante Errante Manuel, mio nome è Manuel Mercante Errante perché sono mercante ho sempre fatto mercatini e Errante invece perché sono uomo quindi erro Errante per quello e poi perché comunque girando, vagando alla ricerca delle essenze giro un po' qua un po' là per il mondo sono pellegrino, ho fatto un po' di chilometri e quindi Mercante Errante per quello e comunque sto da Dio che questa è la cosa più importante e poi abbiamo Sedi con noi ciao, ciao Enzo possiamo dirlo però tu rappresenti un gruppo che si chiama Sedi con noi allora anche te stessa domanda di rito come stai e perché il nome Sedi con noi? io sto bene sto bene quando sento che gli altri stanno bene intanto mando un abbraccio sia ad Achille ti mando tutti gli auguri fratellone siamo insieme lui sa che anche io ho passato dei momenti difficili nella mia vita di salute e poi saluto il Mercante Errante che è un grande personaggio anima con cui stiamo collaborando da tempo e ci siamo trovati Sedi con noi nasce da da un nome che è stato dato in realtà prima del 15 di ottobre per quanto riguarda quello del 2021 per quanto riguardava Trieste è un nome che era nato in precedenza poi quel giorno quel giorno è come se si fosse realizzato quello che tutti noi nelle nostre più paure più grandi si fosse realizzato quel giorno e quindi quel nome ha preso forma e ho portato avanti questo gruppo è cresciuto e abbiamo cercato di portare avanti insomma questa energia questo amore come dice Achille l'amore vince su tutto io dico sempre l'amore puro portiamo avanti questa energia e cerchiamo di di essere una parte attiva allora prima di continuare e parlare di quella che è la vostra iniziativa e del perché voi tre siete insieme che cosa avete in mente vorrei chiedere se ne avete voglia ma potete anche dirmi di no quindi oggi era una giornata importante per quel che riguarda un pochino le sorti dell'obbligatorietà della legittimità dell'obbligo vaccinale allora vi chiedo se avete un pochino seguito i lavori che cosa ne pensate e della veglia di come è andata la veglia e di questa iniziativa di questa comunione di anime e poi invece di quello che è successo oggi che invece è stato un pochino come dire non ci fa ben sperare se ne avete voglia potete anche dirmi di no se vuoi io ti do il punto di vista nel senso che io essendo che ho sempre più o meno vissuto tra boschi strade un po' da invisibile tra virgolette quindi a me fondamentalmente non mi è mai cambiato nulla ho sempre continuato ad essere quello che ero prima e quindi questo mondo che voi narrate lo sento tra virgolette grazie a voi perché non non cago non cago non cago scusatemi il termine passate e quindi diciamo che rimango come spettatore di quello che succede questo è il mio punto di vista a me non mi preoccupa minimamente perché l'amore vince su tutto io io credo che ho sentito prima un attimo fa un canale che sta parlando di questo che ha detto che gli avvocati che erano presenti a questa a questo questo giudizio in questo tribunale c'era l'obbligo della mascherina per tutti quindi io credo che se andare andare a giudicare un discorso se era giusto l'obbligatorietà sì o no e tutti sono mascherati credo che la sentenza sia abbastanza scontata e ovvia non credo che ci sia nient'altro da dire riguardo questo dato che erano tutti mascherati all'interno con l'obbligo tu di con noi io io personalmente non posso aggiungere nient'altro se non ribadire quello che abbiamo vissuto in questi due anni un anno e mezzo due anni anche tre io non voglio dare un tempo so solo che abbiamo vissuto in questi anni mettiamola così una cosa che nessuno di noi pensava potesse succedere è successa e ci siamo ritrovati praticamente tutti insieme quelle persone consapevoli a prenderne atto a continuare a portare avanti questa cosa oggi personalmente ero connesso sia alla veglia di ieri sera e anche con voi grazie a voi con 9mq in diretta questa mattina ma la sentenza come avete detto voi per me è scontata e comunque non cambierà e non toglierà e non ci riporterà indietro di due anni quindi non aggiungo altro allora veniamo la loro strada è a linea retta la nostra ecco perché organizziamo Zainzintour organizza questi incontri dove dove le anime si possono trovare proprio per uscire da questo sistema da questo sistema chiuso dove ci hanno ci hanno distanziato noi io insieme al mercantellante sedi con noi ho avuto questa idea proprio per per unirci tutti assieme qui in Liguria per stare assieme una giornata per condividere le nostre emozioni i nostri abbracci i nostri sogni e le nostre paure quindi ecco perché mi sono aggregato questi due grandi personaggi proprio per portare questo questo spirito che sto portando in giro per la nazione nelle conferenze o nelle piazze quello di unità quindi loro possono dire assolutamente quello che vogliono e fare quello che vogliono noi andiamo avanti per la nostra strada e come dico sempre sulle mie felpe l'amore vince su tutto questo è l'obiettivo di queste giornate ecco perché io sarò giù domenica 4 dicembre in Liguria insieme a loro per questo motivo qua proprio per unire basta ma basta queste cose ci hanno stufato noi siamo oltre cerchiamo di parlare in un mondo cerchiamo di creare un mondo migliore dove la gente abbia rispetto per tutti e esista l'amore verso il prossimo questo credo che sia la cosa più importante in assoluto poi loro lasciano che lasciamo fare loro il loro lavoro ma comunque sia noi andiamo avanti per il nostro quindi in alto i nostri cuori verso la libertà e verso la pace e poi gli altri possono urlare finché vogliono noi non urliamo stiamo fermi nel nostro il nostro universo di serenità allora andiamo a leggere la locandina perché io l'ho fatta vedere ma mi sa che da casa si vede poco 4 dicembre mercante errante Dea dell'estate Zainz sedi con noi sono lieti di invitarvi al parco San Pietro in Carpignano come si legge Quiliano Quiliano Savona Quiliano Savona subito dall'uscita dell'autostrada c'è un parco gigante e siamo lì oltretutto sono riuscito a trovare anche la sistemazione tra virgolette se dovesse piovere abbiamo a disposizione il gazebo io ho fatto un'offerta consapevole di un euro a persona chiaramente se piove dovremmo usare il gazebo purtroppo dobbiamo chiedere almeno perché abbiamo da noi non vogliamo guadagnare nulla quindi i soldi che prenderemo saranno per pagare il posto quindi i servizi 3 euro cioè il 50% di un pacchetto di sigarette che nuoccia la salute 3 euro per poter parlare amore e felicità capisci che 3 euro se piove Achille 3 euro se piove se non piove un euro ma se uno vuole fare un'offerta da 5 da 10 euro perché si sente in grado di farlo è giusto che lo faccia assolutamente ci aiuta tutti noi a andare avanti l'obiettivo io volevo chiedere a te perché tu sei la mente di questa cosa qual è l'idea di questa domenica spieghi da dove sei partito qual è il tuo progetto perché questa è la cosa importante che deve riempire quel piazzale quel parco bellissimo vicino al mare cioè qual è l'idea che tu sto facendo il gioco il lavoro di Marzia ma sì stai occupando il lavoro di Marzia vai Achille vai vai l'idea l'idea è nostra io non voglio mai prendermi diritti d'autore perché siamo tre anime che ci abbiamo messo il cuore e ci stiamo mettendo la mente quindi non è mia l'idea è nostra non è nient'altro che un cercare di unire un po' di persone e quelle persone che vengono porteranno qualcosa da mangiare per se stessi chiaramente perché poi c'è chi mangia carne c'è chi non mangia carne quindi io io accetto tutto siamo per unire e quindi ognuno si porta qualcosa da mangiare per sé e poi se è possibile se ne ha la possibilità portare un qualcosa a lunga conservazione perché vorremmo la nostra idea è quella poi di dare di donare questi alimenti che recupereremo a persone che sono meno adagiate in questo momento perché comunque siamo in tanti che non è che siamo messi molto bene io per primo però nel senso e soprattutto oggi ho avuto un'altra notizia che riusciremo anche a recuperare dei giocattoli per i bambini bella 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 l'obiettivo è quello è riuscire a fare come dicevi tu prima Achille un ritrovarsi vabbè tra di noi e tra altre persone che hanno voglia anche solo di un abbraccio passare una giornata tutti insieme fare un pranzo tutti insieme e se possibile aiutare poi qualcuno che sta peggio di noi il Natale non lo dobbiamo fare solo noi che cos'è la cosa più bella del mondo cioè quella di potersi trovare e donare qualcosa di tuo cioè che fosse anche solo il tuo tempo magari che una persona ha bisogno di un abbraccio quindi del tuo tempo cioè noi siamo andati per donare non per avere per possedere quando usciamo da questo loop del io voglio io voglio ma invece io do il mondo cambia cambia questa egregore e cambia proprio il mondo solo che la gente non deve pensare che sono persone di cazzi proprio che c'è Natale c'è chi farà un Natale bello che magari con la pancia piena il tavolo imbandito c'è chi purtroppo farà un Natale senza mangiare sul tavolo e quindi se noi riusciamo questa giornata a portare delle scatolette del tono del riso della pasta qualsiasi cosa che poi e poi il mercante donerà a delle persone lì in Liguria per poter mangiare anche loro qualche cosa perché non so che sembra incredibile ma se la gente in giro che non ha tutti i giorni da mangiare un piatto di pasta quindi se possiamo donare un euro per aiutare gli altri questo è l'obiettivo che è dall'idea del mercante di sedi con noi proprio di fare un pranzo per aiutare gli altri cioè quindi più gente siamo più gente viene più qualcuno porta una pasta un tono quello che vuole più più riusciremo a fare una cosa positiva e bella per gli altri per il prossimo è proprio quello l'obiettivo oltretutto visto che siamo qua ne approfitto chiunque sapesse di una realtà in difficoltà cerci contatti perché comunque noi avremo a disposizione queste cose qua quindi facciamo rete uniamoci quindi chiunque abbia bisogno a volte io lo so mi rendo conto che tante volte chiedere aiuto è difficile però se non iniziamo a capire che se non ci aiutiamo tra di noi non ci aiuta nessuno bravo ragazzi siamo fermi ma questa cosa dovrebbe essere fatta in tutte le piazze d'Italia in tutte le regioni d'Italia c'è queste cose carine così di ritrovarci parlare abbracciarci portare qualcosina cioè ma cosa c'è di male di più bello di andare una cosa ma certo guardate io tra l'altro io anche io invito chiunque abbia qualche contatto per darci una mano poi per poter organizzare per poter andare via quello che raccoglieremo è benvenuto però personalmente non vedo l'ora nel mio perché con mercante erante lo abbiamo detto andremo per le strade andremo a conoscere le persone noi vogliamo andare a portare queste cose direttamente le persone le vogliamo guardare negli occhi gli vogliamo dare un abbraccio vogliamo conoscere la famiglia se hanno bambini se hanno c'è il fine non è solo quello di portare l'aiuto ma in quelle notti fredde girare per le strade e per per le famiglie nei condomini per portare non solo l'aiuto un abbraccio un sorriso un supporto e credo che questo io non vedo l'ora personalmente di essere questa realtà cioè di poterlo portare direttamente questo aiuto che faremo tutti insieme ragazzi bravissimi io leggevo anche Dea dell'estate non è con noi questa sera come mai la Dea dell'estate purtroppo sta lavorando perché qualcuno lo deve fare prima o poi e quindi la Dea dell'estate in questo momento non è presente per quello perché comunque sta lavorando allora salutiamola diciamo che ci sarà anche lei chiaramente vedo che c'è anche una prenotazione quindi si consiglia la prenotazione qua il numero di telefono posso leggerlo mi è autorizzato certo allora Manuel 370363 aspettate 6593 l'ho detto bene? 3636593 ok è lui allora io chiedo voi avete avuto questa idea poi Allegra scrive raga facciamo facciamo rete poi ancora Susanna dice siete fantastici ma come si trova la forza perdonami Susanna Susanna è la Dea dell'estate ne approfitto la saluto ciao ciao Susanna ciao Susanna allora come si trova la forza e la voglia di fare qualcosa per gli altri io credo che se come dicevo prima se non ci si aiuta tra di noi io ho imparato questo nei miei cammini io quando cammino vado senza soldi in ciabatte a parte che giro in ciabatte da dieci anni però mi affido mi affido mi affido a cosa? a me stesso a come mi pongo e alle persone che incontro l'umanità è quella cioè non è io non ci vedo nulla di anormale dovremmo essere tutti così se fossimo tutti così tutti avremo tutto esatto 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 momenti di paura poco per tutti e non e non e non tanto per pochi sì c'è poco da raggiungere sì ma momenti in questo affidarsi no? cioè voi quando partite con questa idea Marzia sì mi sentite? no? io sì Achille mi senti? no Achille non mi sente mi senti Achille? no non mi sente dicevo in questo affidarsi intanto che Achille risolve il problema tecnico in questo affidarsi ogni tanto però c'è paura di smarrirsi anche quando dici vado e mi affido però abbiamo visto che ci sono due tipi diversi di umanità non c'è paura di incontrare la parte di umanità che non ci piace la paura è la cosa che ti tiene fermo e allora se tu riconosci questo essere fermo vai avanti e quindi oltrepassi la paura non è facile da comprendere però la paura è la cosa che ci tiene più fermi lì dove siamo ok? nell'attimo in cui io mi affido a totalmente a una buona azione che deriva dal cuore dettata dall'amore non devo più aver paura la paura si sfrantuma ecco che poi all'esterno attrai ciò che sei ciò che è dentro è fuori senza dubbio ah dice Allegra del Nuovo dice no no si capisce se si fa e poi Suraya dice ci arriveremo allora a questo punto altra domanda che invece voglio fare per voi avete detto in caso di maltempo ci sarà anche la possibilità di ripararsi avete trovato una struttura che vi accoglie o qualcosa di diverso? allora lì nel parco stesso sono riuscito a mettermi d'accordo con chi gestisce il posto diciamo che è il Camiglia che è un ristoro e sono riuscito a farci dare a pochissimi euro e lo dico cento euro il gazebo a disposizione abbiamo se dovesse piovere con cento euro riusciamo a prendere un gazebo al caldo col fungo dove ci stanno più o meno una trentina quarantina di persone quindi riassumendo vai Achille dai il riassunto finale della serata chi può partecipare dove come può contribuire cosa deve portare è molto semplice sarà un pranzo chiamiamolo al sacco in un posto in Liguria a Quigliano vicino a Spotorno dove saremo noi tre ci saranno anche gli incensi del mercante errante fantastici buonissimi io ne vado pazzo e saremo lì quindi per fare due parole per abbracciarci per raccontarci a mangiare qualcosa così al sacco ma non è tanto il mangiare quanto il portare qualcosa per qualcun altro fare amicizia scambiarsi non so delle cose e farsi gli auguri di Natale una giornata conviviale tra persone umane cosa che ormai siamo veramente rimasti in pochi quindi venite a trovarci a trovarci giù in Liguria a Quigliano e ci vediamo lì facciamo due parole passiamo una giornata se avete una scatola di tonno a casa un chilo di riso un chilo di pasta qualsiasi cosa che ovviamente è lunga conservazione che si porti la carne il giorno dopo come cavolo fa quindi qualcosa che duri un po' e poi dopo il mercante si diti con noi troveranno un sistema per portarle in giro a chi ne ha bisogno quindi ci vediamo in Liguria domenica e se fa brutto chi se ne frega siamo belli noi ho esagerato pianto non fa brutto pianto non fa brutto a costa di andare a scendere incensi da domani mattina se ne ha 4 allora io vi ricordo ancora una volta la possibilità di prenotare questa è una cosa molto importante quindi se volete partecipare intanto prenotate anche per organizzarsi in modo che si sappia che ci sarà ricordate anche i giocattoli per i bambini a te ci tiene molto ci tengo molto anch'io io ne ho un quintale quindi in qualche modo cercherò di farveli avere non so come ma cercheremo di organizzarci per farveli avere e ho anche tanti libri per bambini quindi anche quelli mi piacerebbe riuscire a darveli e a donarveli quindi fatemi sapere i libri per i bambini i libri per i bambini una delle idee che mi sta frullando in questi giorni è quello di andare in giro per le scuole a distribuirli ai bambini stavamo parlando di queste cose beh quindi insomma vi tornano utili nel caso vi potrebbero tornare utili quindi volentieri allora ragazzi io a questo punto vi auguro vi do anzi un grande in bocca al lupo sono certa che sarà un successo poi ci siete voi che siete bellissimi ci sarà la dea dell'estate che immagino sia un'anima bella almeno quanto la vostra se non di più perché sapete che sono un po' partigiana e quindi essendo donna devo dire che forse un pochino di più ma a parte questo vi faccio un grandissimo bocca al lupo e poi teneteci aggiornati anche su come andrà intanto grazie per essere stati con noi grazie a te Marzia grazie a Maurizio che non vediamo in questo momento ma so che 39 39 39 cosa? 39 un abbraccio a Maurizio un abbraccio un bacione un abbraccio a Maurizio un abbraccio a tutti in amore puro ti abbraccio a tutti in amore puro ragazzi vi aspettiamo ci vediamo ciao ciao ciao